Ben trovati telespettatori di Teledauna e benvenuti all'appuntamento con l'informazione dei Monti Dauni in collaborazione con le testate giornalistiche, lo struscio ed il vetro. L'apertura di questa settimana è dedicata ai riti del Triduo Pasquale, cominciato ieri con Giovedì Santo, vissuti appieno nei Monti Dauni. Sentiamo quali sono i principali appuntamenti nei Paesi Dauni. Da sempre il Triduo Pasquale nei Monti Dauni è sinonimo di devozione e preghiera, con partecipazione della Passione di Cristo a tutto tondo. Si comincia con la Messa in Cena Domini il Giovedì Santo, quando a Biccari, protagonisti della lavanda dei piedi nei panni dei dodici apostoli, sono i genitori dei bambini che riceveranno il Sacramento della Comunione nell'anno. In serata vengono legate le campane fino alla notte di Pasqua e allestiti presso le chiese cittadini e sepolcri. Il Venerdì Santo la Corale Santa Cecilia rievoca in musica le ultime sette parole di Gesù con un concerto in cattedrale. Tra gli eventi più degni di nota del Venerdì santo compare sicuramente la cosiddetta processione delle catene di Troia. Istituita con molta probabilità dal Vescovo Cavalieri dopo un tragico evento nel 1702, nella mattinata una processione parte dalla chiesa di San Basilio Magno e si snoda lungo le vie del centro storico per visitare i sepolcri nelle diverse chiese. I cinque penitenti, vestiti e incappucciati con saio bianco, portano una pesante croce sulle spalle. Annunciano il loro arrivo col sinistro rumore delle pesanti catene, legate ai piedi nudi e col battito sordo della trocciola. Si svolge la sera invece la scenografica processione dei misteri. Cinque gruppi statuari di moderna fattura vengono portati in processione lungo le strade principali della città, rappresentando la via Crucis. Ancora per il Venerdì Santo c'è da menzionare un altro degli eventi religiosi più antichi dei Monti Dauni, la sacra rappresentazione del Venerdì Santo a Roseto Valfortore, giunta la sua 173esima edizione. Sin dal mattino più di 50 figuranti si muoveranno per le strade del paese, in un percorso in salita, come a riprodurre il cammino della via Crucis verso la crocifissione di Gesù. A Faietola, su Manasanta, è il suo momento clou ancora una volta nel Venerdì Santo. Nel primo pomeriggio i giudei insieme fedeli prelevano la statua di Gesù caduto, mentre la Madonna, sorretta dalle verginelle, aspetta l'arrivo del figlio. Avvenuto l'incontro tra le due statue, il corteo procede verso la chiesa di San Salvatore, dove avviene la lettura del passio seguito dal bacio e dall'esaltazione del Cristo crocifisso. Al tramonto, il corpo di Gesù viene schiodato dalla croce e deposto nella tomba. Il sabato santo, un tempo, era caratterizzato dal rumore prodotto dalle trocchiole, che simboleggiava il caos in cui sprofonda il mondo con la morte di Cristo. Dopo la giornata di meditazione e preghiera del sabato santo, tra i più caratteristici riti della domenica di Pasqua, c'è ancora la processione del bacio a Troia. La statua della Madonna parte dalla chiesa di San Domenico e nel frattempo dalla parte opposta della città muove quella del Salvatore. I due simulacri vengono lentamente avvicinati e poi la statua del Salvatore viene fatta inchinare per il bacio sino ai piedi della Madonna. Ma i riti della settimana santa hanno avuto inizio già con la domenica delle palme. Sentiamo quali sono stati gli appuntamenti a Motta, Biccari e Volturino, tutti incentrati sulla messa in scena degli ultimi momenti della vita di Cristo. Non poteva che essere un ritorno in grande stile quello della Via Crucis vivente di Biccari. Domenica 9 aprile la commozione e la suggestione l'hanno fatta da padrone, tra i numerosi biccaresi accorsi in processione per rivivere gli ultimi momenti della vita di Cristo. Più di 80 tra i protagonisti e figuranti e tantissimi i fedeli raccolti in preghiera. Fedeli non spettatori perché, come ha ribadito più volte il parroco del paese Don Donato Nardone, quella rievocata è una rivisitazione devota della passione di Gesù e non una rappresentazione teatrale. Pubblico delle grandi occasioni a Motta Monte Corvino per la rievocazione della passione e morte di Gesù. Complice anche la giornata di sole, il piccolo centro dei Monti Dauni domenica pomeriggio ha fatto registrare presenze straordinarie. In tanti, anche dai paesi limitrofi, hanno seguito la settima edizione della rappresentazione nata nel 2010 grazie all'idea di alcuni giovani del posto con il patrocinio della parrocchia e del comune. Alla rappresentazione ha partecipato anche il vescovo Monsignor Giuliano. Al Volturino sabato 8 si è tenuta invece la settima edizione del Pianto della Madonna, la lauda di Diacopone da Todi. Applausi a scena aperta per gli attori, tutti della Proloco di Volturino. Passiamo alla politica ora. I tre Casali Dauni, Casal Vecchio, Casal Nuovo e Castelnuovo, si riuniscono per lo SPRAR, sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Sentiamo nei dettagli nel servizio di Tonio Sepa. Sui Monti Dauni e in modo particolare su tre Casali Dauni riprende banco il tema dell'accoglienza ai migrati. Qui i sindaci hanno programmato o stanno programmando una serie di incontri con le varie cittadinanze per illustrare il modello di attivazione dei centri SPRAR. Al momento i tre comuni che distano tra loro pochissimi chilometri sembrano andare tutti verso la stessa direzione, ovvero sembrano favorevoli all'accoglienza alla luce delle direttive del Governo. Anche buona parte dei cittadini sarebbe favorevole ad ospitare tramite la nascita di un centro SPRAR. Il sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati è uno strumento innovativo frutto dell'accordo tra il Ministero dell'Interno e l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, finalizzato alle necessità di creare condizioni migliori alle tante persone che arrivano in Italia. L'attuazione dello SPRAR è stato allargato ai comuni facenti parte dell'Unione Casali Dauni in subordine alle rispettive future decisioni. L'amministrazione comunale sta informando e sensibilizzando la cittadinanza. Ne deriva che i tempi di realizzazione dello SPRAR non saranno imminenti ma conseguenziali allo svolgimento dei suddetti incontri. Le amministrazioni sono in ogni modo chiamate a prendere una posizione nonostante le alternative offerte dallo Stato siano davvero poche. I Comuni infatti potrebbero attivare una rete SPRAR, cioè un progetto d'accoglienza della durata complessiva di tre anni, basato sull'accoglienza di una ventina di persone all'anno oppure rifiutarsi con la consapevolezza però che in questo secondo caso la Prefettura si riserverebbe la possibilità di imporre CAS, i centri con una media di 40-50 unità. Ecco perché pare che le amministrazioni dei tre casali stiano studiando la possibilità di presentare un unico SPRAR che porterebbe 6-8 immigrati a paese che si configurerebbe per alcuni come la soluzione meno invasiva e più auspicabile. E proprio Castelnuovo della Daunia che tempo fa era stata etichettata come bandiera nera della raccolta differenziata, non superando nel gennaio 2016 il 9% della differenziata, ora si classifica tra i comuni virtuosi con una percentuale del 71%, il servizio di Andrea Gisoldi. Grande soddisfazione per Castelnuovo della Daunia, piccolo comune del subappennino Daunio settentrionale. Il sindaco Guerino De Luca ha annunciato che ormai il dato della raccolta differenziata con il metodo porta a porta si assesta al 71%. Un dato importante per il piccolo comune è visto che nel 2016, precisamente a gennaio, non si superavano il 9% di differenziata, per poi passare con la raccolta porta a porta ad ottobre dello stesso anno al 73%. Con questi dati Castelnuovo si posiziona tra i comuni più virtuosi di Puglia, oltre ad arrivare tra i primi nella provincia di Foggia, per quanto riguarda non solo la raccolta differenziata ma alle politiche ecologiche del Paese. Un'altra medaglia al valore invece va alla popolazione tutta di Castelnuovo, che ha saputo recepire l'importante messaggio della differenziata, non solo nel metodo ma anche nei criteri di giudizio per quanto riguarda la suddivisione dei vari prodotti. In modo particolare la differenziata effettuata nel Paese risulta tra le migliori di tutta la provincia di Foggia. E rimanendo nel tema della differenziata ci spostiamo a Lucera, o meglio nel carcere di Lucera. Qui andrà in vigore la raccolta differenziata, fin dentro ogni singola cella. Lo ha stabilito un protocollo d'intesa firmato nei giorni scorsi dalla direzione della casa circondariale rappresentata da Giuseppe Altomare e l'amministrazione comunale con il sindaco Antonio Tutolo e il suo vice Fabrizio Abbate. I termini prevedono che tutto l'istituto sarà dotato dall'azienda Tecneco di appositi contenitori e buste per la differenziata e di contro il carcere otterrà una riduzione della Tari. Rimaniamo a Lucera ma cambiamo argomento. Tre giovani della cittadina federiciana fanno rivivere il castello con un applicativo chiamato Ario. Grazie a Bey. Immaginate la magia di poter rivedere ricostruito il castello di Lucera nelle sue fattezze originarie, di poter rivivere scena di vita quotidiana nelle sue epoche passate. Questo sarà possibile con Ario, l'applicativo che porta a una rivoluzione nel concetto di visita guidata. L'innovativo progetto proposto da tre giovani di Lucera, Domenico Bevere, Biaggio De Maso e Paolo Manieri, risulta tra i vincitori del bando PIN, Pugliesi Innovativi, lo strumento con il quale la Regione Puglia finanza idee innovative con cui fare impresa. Il bando PIN è pensato per i giovani dai 18 ai 35 anni. L'avvio delle start-up è finalizzato a creare opportunità di lavoro sul territorio. Il finanziamento massimo concesso dalla Regione è di 30.000 euro a progetto. Attraverso la ricostruzione 3D e con l'uso di un dispositivo mobile, il visitatore potrà vedere il monumento così com'era in passato e saranno ricostruiti avvenimenti storici legati al luogo con personaggi in azione. Si tratta di un progetto pilota per il Castello di Lucera, ma una volta realizzato il programma lo si potrà utilizzare all'interno di qualsiasi monumento, museo, area archeologica. L'idea è quella di innovare il concetto classico di visita turistica. Per fare questo, i tre hanno messo insieme le proprie competenze professionali in campo informatico, economico, studi umanistici e comunicazione. Un'altra fase centrale nel progetto è lo sviluppo del gaming, che favorirà l'interazione tra i potenziali visitatori. E ancora una giovanissima e protagonista di una bella storia da Ascoli Satriano, in modo particolare Rosa Radogna, assessore alle politiche sociali e al turismo, entrata a far parte di un seminario nazionale organizzato da Anci, giovani amministratori a Venezia. Un vero e proprio laboratorio di progettazione, nel quale gli amministratori partecipanti seguono attraverso gruppi di lavoro l'ideazione di interventi di innovazione su tematiche ad alto impatto sociale. Idrotermo di Eugenio Forte, a Pietra Monte Corvino. Vendita e posa in opera di caldaie a condensazione, climatizzatori, pompe di calore, gas metano, impianti idraulici e fotovoltaici. Idrotermo di Eugenio Forte, esclusivista dei migliori marchi del settore, Cosmos, Mitsubishi e Ferroli. Garantita l'assistenza a domicilio. Se parli di Nonna Iole De Mauro, pensi a bontà, gusto e tradizione. A Casalvecchio di Puglia, dal 1959, il panificio Nonna Iole De Mauro offre ricette di sempre in una veste innovativa. Pane, scaldatelli, biscotti, panettoni e in questo periodo colombe pasquali. Panificio Nonna Iole De Mauro, a Casalvecchio di Puglia. E ritorniamo in studio, rimanendo però ad Ascoli Satriano, la cittadina dei Monti Dauni che dal 2 al 12 maggio 2017 porterà i suoi grifoni a Parigi. A rappresentare la città di Ascoli ci sarà il sindaco Vincenzo Sarcone. Il comando Carabinieri tutela patrimonio culturale. In collaborazione con il segretario generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Direzione Generale Affari Esteri e la rappresentanza permanente d'Italia presso l'UNESCO curerà la realizzazione di un evento espositivo di opere d'arte recuperate, in modo particolare del trapezoforos con grifoni e cerva presso la sede UNESCO di Parigi. L'iniziativa servirà per promuovere la candidatura italiana all'UNESCO e l'eccellenza artistica di Ascoli, che questa volta rappresenterà tutta l'Italia. E ancora cultura. Il Museo Provinciale del Territorio, da poco rientrato effettivamente in funzione, custodisce un tesoro che arriva da un recente scavo a Pietramonte Corvino. La mostra sarà inaugurata ufficialmente con un convegno che illustra i risultati della campagna archeologica. Intanto, all'interno del museo continuano praticamente quotidianamente i laboratori con le scuole. Il servizio di Mariangela Mariani. In questa teca gli anelli sono ancora attaccati alle dita tranciate di netto a male in cuore pur di portarli via. I reperti sono sporchi di terra. Una volta riportati alla luce, sono stati subito esposti qui, nel Museo Provinciale del Territorio. Si è trattato di uno scavo d'emergenza a Pietramonte Corvino. Affiorate le tombe durante la messa in opera di Paleoliche, i materiali ritrovati sono stati portati via la svelta dagli archeologi. Ci sono vasi, chiodi dei calzari e una necropoli di tombe alla cappuccina, databili fra l'età tardoantica e l'alto medievale, tra il IV e il VII secolo d.C. Lo scavo effettuato a fine 2016 in località Masseria Romana sarà presentato in un evento che inaugura ufficialmente la mostra il 12 aprile alle 18, voluto dalla soprintendenza in collaborazione con le Università di Foggia e del Salento e i comuni di Pietra e Troia. Perché si parlerà anche di un altro intervento che nel 2015, in località Perazzone in Agro di Troia, ha portato alla luce anche un'altra necropoli della stessa tipologia e cronologia. L'evento si inserisce nell'ambito delle azioni previste dal progetto Al Museo in tutti i sensi della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù che ha fatto rivivere il contenitore culturale di Via Arpi che ora apre anche allo studio e alla ricerca scientifica favorendo la divulgazione dei risultati delle campagne di scavo. L'allestimento del Museo del Territorio è ancora in fase di completamento ma dopo un mese appena dalla sua riattivazione sono stati ospitati già più di mille studenti delle scuole superiori di tutta la provincia impegnati nei laboratori di archeologia, arte e antropologia curati dalle esperte di didattica museale dell'APS Mira. Tuttavia spesso però i tesori che nascondono i Monti Dauni sono poco conosciuti e parliamo del patrimonio artistico e culturale che li contraddistingue. Ciò è stato oggetto di indagine della Fondazione Banca del Monte di Foggia insieme a Fondazione Puglia l'associazione ACT Monti Dauni in collaborazione con la Proloco di Troia. Sentiamo. Spesso maltrattati e bistrattati, eppure i Monti Dauni sono pieni di risorse. Ma quanto li conosciamo? O meglio, quanto i turisti e tutti i non residenti li conoscono? La Fondazione Banca del Monte di Foggia, insieme a Fondazione Puglia e all'associazione ACT Monti Dauni in collaborazione con la Proloco di Troia, ha condotto un'indagine conoscitiva sullo stato dell'arte del turismo nei Monti Dauni. I risultati sono stati illustrati presso la Sala Rosa del Vento di Via Arpi alla presenza di Saverio Russo, presidente Fondazione Banca del Monte di Foggia Antonio Castorani, presidente Fondazione Puglia e Giuseppe Beccia, presidente ACT Monti Dauni. La ricerca, condotta nei mesi di gennaio-febbraio 2017, è partita dall'analisi dei dati ufficiali relativi alle presenze nelle strutture alberghiere ed extraalberghiere dei Monti Dauni negli ultimi anni e si è sviluppata attraverso la somministrazione di interviste a organizzazioni turistico-culturali, tour operator e agenzie turistiche che operano in Puglia. I turisti che giungono sui Monti Dauni provengono da un 32% dalla Puglia, 24% dall'estero e 44% dal resto dell'Italia. Tra gli intervistati, il 44,4% ha affermato di conoscere poco la zona. Tra i limiti c'è l'assenza di servizi di primaria importanza, primo fra tutti la viabilità. Il 26% dei turisti che trascorrono le proprie vacanze nelle aree interne lo fa per l'enogastronomia, il 34% per visite e fattori culturali. C'è da dire che gli operatori locali, proloco e associazioni turistiche puntano molto su ricchi calendari estivi, su eventi culturali folcloristici. Il passo da fare è valorizzare anche altre realtà del posto, affinché ad essere richiamati all'attenzione non siano soltanto visitatori delle zone limitrofe, ma nascano veri e propri flussi turistici. Cambiamo argomento ora e ci spostiamo a Motta Monte Corvino. Sono in corso a Monte Sambuco, territorio ricadente nel comune di Motta Monte Corvino, i lavori di ripristino del ramo idrico da parte dell'Acquedotto Pugliese all'interno dell'accordo di programma quadro, tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche, lavori di ripristino del ramo idrico schema molisano destro, ramo settentrionale. L'amministrazione Iavaniglio sta puntando molto sulla valorizzazione del sito, nota postazione radio televisiva e luogo di culto a cui i mottesi sono molto legati. Dal 1901, infatti, il 6 maggio di ogni anno, Monte Sambuco è in meta del pellegrinaggio di fedeli e visitatori con la festa in onore di San Giovanni Battista. In particolare, la serie di interventi riguarda, oltre che sistemazione dell'apparato idrico con ristrutturazione di alcune antiche fontane, anche opere di riqualificazione dell'intera zona. Sarà uno dei luoghi più incantevoli dei Monti Dauni, commenta il sindaco di Motta Domenico Iavaniglio. Monte Sambuco è un luogo a cui tutta la popolazione di Motta è legata in modo particolare, per il legame con il santo patrono e non solo. Grazie all'aria pulita, che si può respirare a quasi mille metri di altezza, è stato sempre meta di turisti naturalisti e per questo motivo merita di essere riqualificato nel modo giusto. I lavori prevedono la messa in sicurezza dell'antica cappella, con rifacimento della facciata e degli interni. Sul piazzale antistante sorgeranno nuove panchine e nuove staccionate in legno, previsto il rifacimento dell'intera illuminazione. Bene, con l'informazione dei Monti Dauni è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.